BID, leader nella produzione di veicoli ad energia nuova e di batterie, annuncia il lancio sul mercato europeo della nuova BID Dolphin 100% elettrica. Questa hatchback di segmento C combina l'estetica distintiva del design leggero con la versatilità, l'agilità e la ricchezza delle dotazioni di serie, insieme alla tecnologia EV della casa cinese. La BID Dolphin è il primo modello di serie Ocean e il primo ad adottare il concetto di design Ocean Aesthetics, che le conferisce un look distintivo ed elegante. Basandosi sui nuovi attributi energetici, gli sbalzi corti e il passo lungo conferiscono alla vettura un aspetto più spazioso. Cinque i posti disponibili, con sedili sportivi dal design ergonomico realizzati in pelle vegana. Quelli anteriori sono riscaldabili e regolabili elettricamente, a sei vie per il guidatore e a quattro per il passeggero anteriore. Grazie alle caratteristiche intrinseche della piattaforma ePlatform 3.0, i sedili posteriori offrono ampio spazio per le gambe dei passeggeri. I supporti per le spalle e la schiena dei sedili anteriori sono stati appositamente ottimizzati, mentre le sponde laterali sono più erette, adattandosi perfettamente alle curve del corpo, per una guida più confortevole ed avvolgente. Le versioni più accessoriate della gamma di Big Dolphin sono dotate di un ampio tetto panoramico in vetro grigio a doppio strato e ad alta resistenza acustica e anche ad isolamento termico, con una superficie vetrata paragonabile a quella di un'auto di lusso del segmento D. Questo offre agli utenti una visione ultra grandangolare, un'area luminosa più ampia ed una visione più trasparente. È inoltre dotato di un filtro UV al 97% per mantenere il clima fresco nelle calde giornate estive. La Big Dolphin si avvale della batteria Blade, che sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni nel settore dei veicoli elettrici. Le batterie prive di cobalto utilizzano come materiale catodico il litio ferrofosfato, che offre un livello di sicurezza molto più elevato rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali, poiché hanno una stabilità termica intrinsecamente eccellente. Grazie alla batteria Blade e al motore sincrono a magneti permanenti, la Big Dolphin può accelerare da 0 a 100 km orari in soli 7 secondi. I 310 Nm di coppia e il potente motore da oltre 200 CV garantiscono una spinta costante che permette di raggiungere la velocità massima di 160 km orari. Le modalità di guida sono quattro, Sport, Normal, Economy e Snow, per adattarsi alle diverse condizioni. La Big Dolphin ha un'autonomia elettrica combinata di 427 km, secondo quanto dichiarato dalla casa. Le prestazioni sono elevate anche per quanto riguarda la ricarica. La carica batteria a corrente continua da 100 kW è in grado di ricaricare la batteria dal 30% all'80% in soli 29 minuti. Il nuovo gioiello della casa cinese è poi dotato di serie di numerose funzioni di sicurezza e assistenza alla guida avanzate. L'Adaptive Cruise Control e l'Intelligent Cruise Control aumentano il piacere di guidare. La telecamera panoramica offre al conducente una visibilità a 360 gradi per manovrare il veicolo in tutta sicurezza. Inoltre, il sistema di rilevamento dei punti ciechi, il controllo elettronico della stabilità, il controllo della trazione, quello della velocità in discesa, il sistema di assistenza alla partenza in salita e il riconoscimento dei segnali stradali con controllo intelligente dei limiti di velocità sono ulteriori ausili alla guida, compresi nella dotazione. La Big Dolphin è disponibile in quattro diversi allestimenti, che vanno dai 30.800 euro del modello Active fino ai 38.000 circa per quello Comfort. Con questo modello, il marchio cinese entra a gamba tesa nel mercato europeo.